Con Carlo Colla, che è appunto il presidente dell'associazione Soave Versus, vogliamo sapere esattamente perché dobbiamo venire a Soave. Perché è una full immersion sul prodotto Soave. Il prodotto Soave si articola in vino e gastronomia. L'eccellenza indubbiamente l'abbiamo rappresentata da tutti i produttori del Soave e chi viene a trovarci avrà modo di assaggiare tutte le sfumature del Soave e avrà modo, cosa unica in Italia, di parlare direttamente con i produttori del Soave. Il gioco poi è abbinare i Soave alla gastronomia. Per quanto riguarda i produttori, saranno tutti presenti? I produttori del vino saranno presenti e andranno a descriverci il loro lavoro e ci presenteranno il loro prodotto. Ci saranno inoltre tutti gli altri produttori, ci saranno i ristoratori come gastronomia, i produttori del formaggio, i produttori del prosciutto. Ma spiegami una cosa, un vino bianco andrebbe abbinato con il pesce? Ma certamente lì abbiamo la fortuna di avere la cooperativa Pescatori a Strassico di Goro che allestiranno uno stand e ci proporranno i loro pesci. E verrà fritto? Eh, certamente sarà fritto, penso dalle mogli dei pescatori e andrebbe ad abbinarlo sia al Soave e sia all'ospite d'onore che avremo quest'anno che sarà il Consorzio Tutela del Durello. Un nostro cugino qui vicino è un vino spumante che sicuramente troverà un abbinamento ideale con il pesce prodotto o offertoci dai pescatori a Strassico. Beh, direi che queste voci qua possono già essere importanti. Per i navigatori di olio, vino e peperoncino credo che il 6, 7 e 8 settembre vi dovete segnare Soave in provincia di Verona. Ma penso che Cristina abbia qualcos'altro da aggiungere. Cristina.